E' morto a Los Angeles all'età di 87 anni William Friedkin, il regista statunitense che ha firmato l'esorcista, film divenuto un cult del genere horror. Hollywood ha reso omaggio a Friedkin, che vanta nel suo palmarès anche un Oscar per il braccio violento della legge e un leone d'oro alla carriera alla mostra del cinema di Venezia nel 2013. Nato a Chicago nel 1935, Friedkin aveva iniziato a lavorare in produzioni televisive locali e continuato poi per il grande schermo. I suoi fan gli hanno reso omaggio sulla Walk of Fame.